Sempre connessi, sempre connessi, siamo su Rai News. Volevo fare un'osservazione sulla dimensione del cinema. Allora, chi va al cinema, a parte che adesso sono chiusi, ma comunque il cinema è in fase calante, in crisi, già da molti anni. Si stanno affermando i serie, le fiction, le serie su Netflix, le serie on demand. Quindi l'avvento del web, il web ha surclassato il cinema, l'ha scavallato, è come Michael Johnson contro una persona che ha difficoltà a motori, una persona che è un sedentario. Quindi Michael Johnson gli dà i metri. Allora, questo perché? Lo diceva un regista, diceva, intanto il successo delle fiction, non le fiction, i serial, i serial stanno avendo un successo clamoroso. Clamoroso, clamoroso i serial. Perché questo? Perché il linguaggio sta cambiando. C'è una contaminazione del teatro all'interno del fiction, del linguaggio fiction. Perché la fiction, ma soprattutto i serial, prendiamo Netflix, ha dei tempi, ha dei tempi di svolgimento della trama molto più dilatati rispetto al film, che in un'ora devi dire tutto. Quindi cambiano le scene, cambia il rapporto col pubblico. Quando crea la fidelizzazione, come ho fatto io con voi, che adesso ho milioni di visualizzazioni, ma siete fidelizzati, cioè siete persone che siete abituati. Quando crea un'abitudine, a quel punto il pubblico si affeziona a quel modello comunicativo, non torna più indietro. Per quello il cinema è morto, perché è un modello antiquato.